Cucu! Cucu! Buongiorno! Come ti chiami? Simone! Simone, benvenuto a Campovolo a Reggio Emilia! Ci stiamo mettendo... vedo già dai denti... un'imbregatura perché... cosa facciamo? Ma non lo so, mi hanno detto che andiamo a farci un giro... un giro, in aereo... Andiamo a Funghi! Però poi con l'aereo non torniamo indietro! Non torniamo giù, ah no? Eh, purtroppo no! Che botta! Come ti senti? Carico, carico! Non vedo l'ora che andiamo! Ricordati che io ti volo davanti, ti saluto, posso fare i gestacci! Quello che vuoi! Grazie a tutti! 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 Buongiorno! Buongiorno! Benvenuti! 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 Grazie per la visione!